Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. Cominciamo dalla 1 dove troviamo 3 km di coda con tratto chiuso tra Chiusi e Fabro in direzione Roma. Sullo stesso tratto in carreggiata opposta rallentamenti per curiosi. Sempre la 1 coda in uscita a Firenze e Scandicci per chi proviene da Bologna per traffico intenso. E ancora rallentamenti per perdita di carico verso sud tra Bivio 1 Variante e Calenzano. In 11 codi a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio Colla 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Il tutto verso Firenze. In Fipilì in diminuzione ad 1 km la coda per veicolo fermo e navaria tra Cascina e Navacchio in direzione di Pisa. Sempre in direzione Mari un km di coda per lavori tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest. E ancora coda a tratti per traffico verso Firenze tra La Strassigna e Firenze e Scandicci. E coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze per viabilità esterna che non riceve. Traffico urbano di Firenze, prudenza per materiale in carreggiata segnalato sul viadotto dell'Indiano. Può versi in Toscana di un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.